Occupiamoci di quei genovesi che vorrebbero fare dei figli, che non è che non li fanno perché non gli va, non li fanno perché i figli sono diventati un bene di lusso, perché non ci sono strumenti, perché non ci sono servizi. Dico, la vabbè ma chi se ne frega che tanto in Italia non si fanno più figli, i figli li fanno gli immigrati. E allora non ce ne frega niente se li fanno gli immigrati, noi vogliamo che i figli li facciano le famiglie italiane perché non vogliamo rinunciare alla nostra civiltà, non vogliamo rinunciare all'Italia, non vogliamo essere l'unica nazione al mondo che finanzia la sua stessa invasione.